Dal 2004 al 2022 sono state 27.206 colloqui tra il personale della Fondazione Toscana per la Prevenzione dell'Usura e soggetti come singoli, famiglie e microimprese che hanno chiesto informazioni o aiuto perché in difficoltà economica. La fondazione, sostenuta dai contributi del MEF e dalla Regione, si fa da garante con le banche. È ancora poco conosciuta, dice il Presidente Lelio Grossi, ma le garanzie ci sono almeno 20 milioni. E oggi la campagna di promozione con due numeri attivi, i dati più significativi, raccontano che per il 32% dei casi sono le aziende in crisi, quelle che si rivolgono alla fondazione, un 12% per malattia propria o di un familiare, il 10% che ha perso un lavoro, un 3% per gioco d'azzardo. Quello che mi interessa che avvenga è che i cittadini che si trovano in difficoltà finanziarie e non riescono a ottenere il credito bancario ordinario, anche se non solo hanno da fronteggiare dei debiti pregressi, ma hanno da fronteggiare spese straordinarie o non previste e in questo momento parliamo dalle bollette in là, vengano a trovarci. Noi abbiamo dei volontari altamente qualificati che sono lì per loro libera scelta, disposti ad aiutarli a superare i loro problemi, dando anche consigli e poi sottolineo tutto ciò che facciamo, IVI compreso il rilascio della garanzia alla banca, è a titolo completamente gratuito senza recuperare spese o commissioni. Venite con tranquillità, sarete accolti, sono persone che per loro libera scelta svolgano questo servizio.